Pace e prega a tutti, benvenuti. Il motivo per cui siamo qui lo sapevo. Grazie per la vostra presenza. Un saluto particolare al signor Sindaco. Stasera c'è un'ora della sua presenza. Un saluto con piacere il dottore architetto Angelo Giunta, la sovredendenza di Enno. E un re di racconto particolare, diciamo, a Marzia, perché è colei che ha portato avanti, diciamo, tutto il lavoro. Non da ora, ma da un po' di anni. E permettetemi che vi racconti un po' di storia della presenza dei cappuccini qui a Nicosia. Penso che tutti sarebbero ricordare assolutamente. I fancappuccini siamo presenti a Nicosia da 1546, cioè a dire 473 anni. Il sito del primo convento era nella zona di Sant'Anna, sotto il convento dei Zoccolanti, l'attuale caserma dei Carabinieri. E detto sito risortò mal sano e insufficiente per il numero dei fatti che andavano crescendo sempre più. E il 7 dicembre del 1603, con grande concorso di popolo, fu piantata la croce incontrata al Giardinello, su questo colle, cioè lì, che successivamente fu chiamato il Colle dei Capocini, luogo incantevole anche per la grande simba. E qui fu costruito il nuovo convento, dove visse il nostro amato San Felice, che è nel 1715-1787. Il nuovo convento non è questo, ma il re che si caccia, perché il convento era lì. Come è risaputo, con la soppressione degli ordini religiosi da parte del governo, nell'anno 1866, i frati dovessero abbandonare il convento con quanto vi era conservato. Però c'è un particolare, la chiesa rimase aperta al pubblico e continuò ad essere ufficiata sino al 1885. I frati, che non si sono dispersi, ma sono rimasti, e costituivano una cooperativa agricola. Solo così potevano presentarsi nel senso governo, non come frati Capocini. E così nel 1877 comprarono la simba, messa in vendita dal demano, e costruirono in alto una piccola casa, ancora in piedi, e vi si conserva una negli alcove dove dormivano i frati. Nel tempo è stata l'invita ad usi diversi, ma bisognerebbe restaurare e renderla fruibile, anche perché ricorda una storia dolorosa vissuta dai frati. Ed è una casetta che ancora c'è al canto al carcere, che è al proprio posto del tuo esame. Padre Alessandro Venuta, da Licosia, ex Provinciale, siamo nel 1877, iniziò la costruzione del nuovo comune, cioè a dire questo, dove siamo adesso. La chiesa venne inaugurata il 14 agosto del 1892. Tutte le opere vittoriche, la monumentale custodia l'India, e oggi i dipinti sulle tavole sagomate, rendono ancora più bella questa chiesetta, già bella per la sua semplicità. I frati hanno dovuto comprare tutto quanto apparteneva alla chiesa, alla chiesa sempre dell'altro monumento, non questo, e hanno ottenuto dal comune tutte le tele e la custodia che ammiriamo nella sua imponenza e bellezza. Le opere vittoriche sono del Bazzano, del Zorbo di Ganci, del Mirabella, da Licosia, e del frate Capuccino Licosiano, Buonaventura Calone. La custodia è attribuita a Pietro Vengilindi da Polizia Generosa. Oggi ci vengono presentate le tavole restaurate con buon parzia di Polizia. Certamente Marzia ci parlerà della sua ricerca e del certosino lavoro di restato. Le tavole sono state custodite genosamente per 134 anni, da quanto la chiesa del carcere è stata chiusa, sono state custodite dei frati che si sono succeduti in questo momento. Finalmente sono venuto alla luce, grazie alla dottoressa Marzia, che per completare la sua tesi di laurea ha restaurato qualche anno fa la tavola dove è dipinto il primo santo Capuccino, tra Felice e la Cantarice, il santo che ha fatto da modello a San Felice da Licosia. E grazie quindi a Marzia perché è stata un'occasione, insomma, che ci ha fatto scoprire e valorizzare, come si conosce, queste tavole. E adesso faccio un appello. Le tavole sono state tutte esposte nella palaustra del corso, ma tre ancora aspettano di essere restaurate, compreso il crocifisso. Sia il crocifisso, come per le tavole, erano del coro della chiesa nel secondo convento, quindi doveva che si carcere, dove visse San Felice. Quindi dobbiamo pensare, perché è un tempo in questo, che San Felice ha pregato dinanzi al crocifisso e dinanzi all'estate. E allora ho pensato di far partire una sottoscrizione con la speranza che con il contributo di tanti riusciremo a conservare ancora meglio queste opere che sono testimonianze delle grandi capacità dell'uomo illuminato dalla fede ed esprimono, che esprimono, nello splendore delle forme sensibili, lo splendore inesprimibile del Dio vivente e accompagnano alla contemplazione del Creatore e poi non dimentichiamo che ogni opera d'arte è lode a Dio. Le tavole, come dicevo, sono state collocate al loro posto, sulla balamustra del coro e fanno corola al crocifisso. Io ho finito, passo la parola al signor Sim che vuole darci un saluto. Luigi, saluto telegrafico, intanto un caro saluto a tutti. Credo che le sedie sono riempite in ogni volta di posto, questo mi fa piacere, devi essere piaciuta pure a tu. E che dire, è un allore come il padre Luiz che lei stasera mi abbia chiesto di salutare, di salutare questo avvenimento straordinario. Noi cerchiamo di esserci centri, ci stiamo connotando, penso, anche per questo, alla mia amministrazione, per sostenere tutti gli eventi culturali che vengono presentati quando così, perché pensiamo che la cultura deve essere la caratteristica principale della nostra città, perché ci sono, ci è intanto una tradizione, una storia che raccontava da padre Luiz, non solo di questo luogo, di tantissimi luoghi, di tantissimi monumenti che sicuramente debbano essere invidiati per qualsiasi altra cittadina della Sicilia oltre. Diceva Rita Scinardi, una volta passata, alla lama del Santissimo Salvatore, mi suggeriva, perché era l'inizio a fare una richiesta dell'iscrizione all'UNESCO, anche perché dice uno dei migliori dieci affacci del mondo, secondo Faberich, ma questa, questa chiesa, come dire, con gli affreschi, ma anche questa, venderebbe per qualsiasi altro luogo, altri monumenti che ci sono di così. E poi, questa grandissima ricchezza di cui io, come sindaco, oltre che come amico, carissimo allevatamente del padre, della mamma, ma poi ho visto, ho visto crescere in sostanza. E qui vado orgoglioso, come sindaco della città, e deve essere orgoglioso non solo di Marzia, soprattutto di Marzia stasera, ma di tantissimi altri giovani che hanno, noi diciamo, una sala di miei, non so, diciamo, in testa, che sono straordinari, che potrebbero far crescere anche loro la nostra città. Io, Marzia, ti faccio i miei complimenti, ho visto la presentazione che hai fatto qualche anno fa, per quella tavoletta che hai restato al palco, che è quella di stasera, che adesso vedremo, i vicevi, i fuggi, siamo sentiti che sono, che le statuette, che hanno un preggio, non solo culturale, ma universale. ti ringrazio e ti auguro a te, così come a tutti gli altri giovani che vogliono crescere professionalmente, culturalmente, che questa crescita, professionale, culturale, possa, possa, venire qua, paniposia, l'auguro più che a te, l'auguro alla nostra città, che tu ti hai salvato. Grazie, grazie a tutti. Signor Sindaco che, ah, mi sono soltanto di dire, dico, perdonate, dico, io darò un piccolismo, proprio, un possibile contributo mio personale, speriamo di poter contribuire, a questo arrestato, come, come comune, come amministrazione comunale. Grazie. Grazie. è un impegno che perdiamo. E questo l'abbiamo potuto fare, perché io ho celebrato 50 anni di sacerdosio, ho detto che le offerte potrebbero andare anche per questo, è qualcosa che è rimasta per la festa che abbiamo fatto di San Felice. Quindi, grazie signor Sindaco, è innamorato di Dico Sia, quindi in tutte le occasioni vorrebbe presentare tutti i monumenti, anche nel mondo dell'arte, le ricchezze, nel culturale, che ne dico sia. Grazie, e speriamo che, non solo il comune, come mai, io vi affido la generosità di tanto, ho preparato dei blocchetti, che poi vi saranno consegnati, quindi penso che riusciremo presto. Questi banchi che vedete, allora, sono stati fatti con una sottoscrizione, che costaranno più di 7 milioni, all'amore, e quindi ci credo che, di questi anni, insomma, mi aiuteranno, ci aiuteranno, per realizzare questo sogno, perché io dall'82 l'ho scoperto, però non ho potuto fare altro. sui prese, così oggi, possiamo dire, che abbiamo iniziato, con un lavoro. La parola, il dottore Giuseppe. Buonasera a tutti, sono Angelo Giunta, sono stato delegato al sovrintendente per il culturale di Enna, il dottore Nicola Neri, a presenziare a questo momento importante di presentazione di un'opera d'arte che contempla anche gli aspetti culturali e culturali. Questo luogo, già per sé stesso, emana energia, energia di tutti gli aspetti. Io a Nicosia ho avuto un modo di lavorare per questo settore che riguarda il restauro dei bisogni solitari artistici come quelli, diciamo, architettonici. Adesso ho l'onere, e non l'onere naturalmente, di assolvere al compito di direzione della sezione architettonica storica artistica. Ho avuto modo di conoscere questo lavoro, e devo dire che ho avuto preferenze positive dal passamento del dottor Paolo Russo, dal scuolico dell'arte che ha fatto una trasveglianza per la restauratrice Marzia Proietto, e ho avuto preferenze naturalmente positive. A maggior ragione perché le referenze provenivano già dall'esperienza notevole, interpresa per lo stesso proietto del restauro del San Felice, una di queste sei figurazioni che vada realizzata nell'ambito della presa di laurea con il centro regionale di presentazione del restauro. E questo già dà la valenza della professionalità perché il centro regionale di presentazione del restauro ci rappresenta il lavoro scientifico in tutta la regione. E' un, diciamo, appunto esclamativo in più sulle operazioni del restauro. questo momento naturalmente non è soltanto un momento di conoscenza delle opere d'arte come restituzione materiale alla collaboratività ma anche un momento di conoscenza e di una peculiarità queste sono opere rarissime se non uniche forse nel territorio, nella regionale e nello stesso tempo rappresentano anche un documento scientifico l'opera della restauratrice non di limite doltanto alla restituzione materica ma anche a una conoscenza dell'opera quando è stata realizzata come e perché naturalmente è stata realizzata a questo luogo sacro a Santa Felice ma nello stesso tempo contemplare aspetti storici di piegarti a una storia molto stra-nazionale quando sono state emanate le leggi come si deve gestire dopodiché tutta una serie di necessitudini quando la Chiesa ha subito diverse destinazioni ad uso diverse definizioni fino a quelle che adesso vediamo quasi complelle perché io sono venuto qua nel tempo quando seguivo il settore e là sopra mi ricordo che era un ammasso diciamo di opere e adesso ve lo contete finalmente e questo va bene diciamo sia alla vista e rispondo anche alla conoscenza io sono venuto qui come ripeto per portare il saluto di restituzione di Cosia rappresenta per il territorio che è in mese non solo un'eccellenza sia il sindaco sia il padre Luigi hanno riassunto questi aspetti ma solitamente non bastano a descrivere quelli sono i valori inziti nella cultura e spesso da fare l'arte e anche nelle tradizioni di nicosia questi sono valori variegati e immenzi parlavate del sindaco Salvatore che sicuramente io con la collega Carla Manguso che qua ci siamo affacciati domina e immanente su tutto il paese ma è immanente non solo come spesso diciamo formale ma anche come significato come aspetto basagistico e come valore naturalmente noi dobbiamo far sì che la sinergia tra quello che può portare avanti il comune quello che può portare avanti la chiesa la sovrintendenza le associazioni perché qua c'è molta struttura sociale che intende a queste cose la nostra sensibilità possa produrre molta ricchezza sia per la conoscenza e sia per la ricchezza del territorio adesso sono venuto qui ad ascoltare ma che in genere quando noi restavamo presento le nostre pubbliche si è per il cosiddetto conzontivo scientifico e adesso siamo qui a seguire il conzontivo scientifico io finirò dalla relazione di marzo e proietti spero novità e conoscenze grazie applausi applausi per tanto ringrazio la vicenda di conto per la sua presenza per le parole decke così come il sindaco Bonelli ci chiediamo a ringraziare anche tra Luigi e i frati Capucci di Guri sia per l'ospitalità che mi hanno dato in questo periodo il fatto di cantiere e il restauro e il soccolto all'interno del convento sia per avervi dato la possibilità di continuare del progetto già iniziato con il mio Nateri quindi vi do il pervenuto a questa presentazione dove dopo una breve rispulsione sulle sagome nell'Europa Mediterranea ed in Sicilia illustrerò quelle del convento in particolare le tecniche esecutive il stato di conservazione e l'intervento di restauro di due dipinti sul tavolo sagomati e bicronti raffiguranti di Santa Maria Maddalena e San Giovanni Evangelista si precisa che il soggetto intervento è stato avviato il 29 luglio ed è stato confiato il 3 settembre sotto l'alta sorveglianza della sovredipendenza per i beni culturali in Italia di Vienna e come diceva Fra Luigi l'intervento si presenta come la motivazione di un progetto piano del 2013 con la sagoma di Fintelice da Cantalice quale è un progetto di tesi all'interno del percorso universitario quindi iniziamo con qualche nozione su questa particolare forma di rappresentazione artistica col termine sagome e cartellani si intendono delle figure realizzate su legno tela lo schienetalico o cartone decorate a tempera o ad oro e scontornate in modo da creare l'illusioni di un'opera tridimensionale nonostante il mantenimento della bidimensionalità ok l'attenzione a questa forma artistica si è sviluppata a partire dal 1900 in seguito all'invenimento di numerosi apparati scientifici da parte della sovredipendenza di Ligure confluiti in una mostra nel duro predice a Genova e recentemente in un documentario si tratta di apparati effimeri che alla fine delle eventi con i quali sono stati originati venivano smontati venivano creati sia per eventi per i giochi per eventi sacri come la settimana santa sia per eventi profani come le viste in città un personaggio di alto rango le sagome si prestano a una grande varietà di soluzioni allestitive possono essere sagome liberamente componibili oppure impianti predeterminati come questo che vedete illustrato in sepolcro di Ligo dove si possono osservare delle sagome bocca scena quindi fondali realizzati in olio su tela o portone su struttura di sostegno in linea alla leggerezza del cartone invece viene preferita la durabilità del legno in questa deposizione che si trova a Sossello un'incarca opera di fronte finora ritrovata al di là degli esentari di Ligosia è questa nuvola di Agostino Latti tuttavia in questo caso si tratta di una terra applicata su supporto linee ulteriore soluzione rappresentata invece dall'utilizzo di bande stagnate come nel caso delle sagome qui illustrate che accompagnano il Cristo deposto ciò che si avvicina più all'esempio di Cosiano invece sono gli allestimenti fissi come in questo caso dell'oratorio di Urbino l'oratorio di Santa Croce di Urbino dove possiamo osservare una serie di sagome in cartone o in legno che sono appunto disposizioni fisse purtroppo non si vede bene però è quello che più si avvicina è che è presente comunque il Cristo con la Dolorata con la Maddalena e San Giovanni insieme ad altre figure altro esempio invece è quest'altro di disposizione con il Procifisso la Dolorata e San Giovanni che sono ancorati ad una torre di Ligia l'ulteriore ulteriori esempi scontrati nel Sud Italia sono queste due sagome o quantomeno ciò che rimane di queste due sagome realizzate su tela applicata a struttura di sostegno linea che anticamente come si vede appunto nella foto erano ancorate erano fissate dalla parete ai lati di trattare le sagome si ottenivano anche disposte su vasi e portate in processione a partire da questa ampia casistica è stata poi svolta una ricerca all'interno del territorio siciliano contattando i vari convetti dei frati Capuccini le superintendenze per i beni culturali e ambientali della Sicilia uffici per i beni culturali ed ecclesiastici delle diocesi siciliane e consultando il portale più web dove si sono catalogati una serie di beni ecclesiastici oltre che consultando studiosi a valutitolo che il tutto quindi ha firmito dei risultati che sono stati studiati nell'azione ai materiali e alle tecniche fornendo informazioni più o meno dettagliate a seconda della possibilità di un'osservazione ravvicinata a un'era per quanto riguarda i soggetti e le funzioni un primo grande gruppo è rappresentato dai dorenti che hanno la funzione di contestualizzare un crocifisso scolpito o dipinto ricordiamo la deposizione della chiesa madre di Cammarata o questo calpario che si trova nella chiesa di San Marco Paderna inserita all'interno di una custodia l'india o quest'altra raffigurazione che invece si trova nel monastero di Palma di Montechiaro un'ulteriore gruppo rappresentato invece dalla Vergine che viene raffigurata sia per un bambino sia al soggetto unico ed esemplari di questo tipo sono stati ritrovati in varie parti del finitore regionale ultimo gruppo è quello del Cristo risorto che veniva utilizzato durante la settimana santa accompagnato dagli apostoli o dal secolculo esempli di questo tipo sono stati ritrovati soprattutto da Cileale ma anche a Petra e Sottana a Davole nel Trapanese soggetti più inusuali invece sono quelli che vediamo raffigurati ovvero i due ecclesiastici che si trovano nella chiesa di San Michele a Micosia i due preserbi di restrittivamente di Vito d'Anna e Provenzale che si trovano a Palermo e gli unici soggetti profani l'Acio ovvero il pancetto a sinistra che è un probabile fermaporta e il plano a destra che invece è una probabile funzione erudica per quanto riguarda la tecnica esecutiva sono state ritrovate le stesse caratteristiche delle sagome all'esterno del territorio siciliano anche se mancano degli apparati realizzati sulla stremetallica e compensati dall'utilizzo di pergamena e cuoio su struttura di sostegno a linea tre esemplari siciliani sono invece realizzati con la terra applicata su struttura di sostegno a linea in particolare l'eccisiastico della chiesa di San Michele di Micosia e il crisso di pedralia sultana sono realizzati come una terra includata alla struttura di sostegno mentre quello di San Marco rappresenta una terra incollata alla struttura sottostante la maggior parte degli apparati invece sono realizzati direttamente sul supporto ligno o su un'unica tavola come l'esempio di Micosiano nel quale parleremo o su più tavole che sono accostate tra loro è collegato tramite travesse realizzate anche con materiali di riuso come ad esempio questo fisso della chiesa di San Sebastiano di Acireale alcune invece utilizzano cartone applicato alla struttura di sostegno a linea come ad esempio le confine del presenza di Vito D'Anna o il cloud di Palazzo Milch di Palermo caratteri generali riscontrati nelle quali sacome sono l'utilizzo di strati pittorici ad olio o a tempera stesi mediante una pennellata fluida più corposa in alcune nomeggiatore e una preparazione dallo spessore figo o inesistente ad eccezione del sepolcro nella chiesa di San Sebastiano da Scireale come vedete nell'immagine in conclusione si può dire che le sacome anche se utilizzano una tecnica eserutiva approssimata riescono comunque a trasmettere in maniera scelografica il loro significato e rappresentano un'alternativa più economica distratta dalla scultura però riescono comunque a trasmettere nella tridimensionalità passiamo adesso all'esame del convento di Nicosia la cui peculiarità consiste non solo nelle stesse sagopate ma anche dipinte da entrambe le parti come ho detto prima sono la nuvole di Agostino Moratti e dipinta da entrambe le parti andano nelle ricerche non rascolte nello specifico i soggetti raffigurati sono San Felice da Cantanice già restaurato nel 2013 San Giuseppe da Lionessa San Francesco da Sisi San Antonio da Padua e i due oggetti dell'intervento a sinistra San Giovanni evangelista nella sua canonica iconografia che lo ritrae come un giovane ingraziato quasi femminio dai capelli accoppili mentre a destra Santa Maria Maddalena prototipo della benigente nell'arte cristiana con i suoi lunghi capelli sciolti e fluenti allo stato attuale non si mostrecono notizie certe relative alla collocazione originaria all'autore e alla datazione per quanto riguarda la sedia originaria come diceva prima Fra Luigi si pensa al secondo dei recombetti costruiti dai famigli a Puccini quindi nel 600 per quanto riguarda invece l'autore e la datazione se si considera il corpus nel suo insieme due sagome ci possono dare degli elementi sulla datazione ovvero San Felici da Cantalice e San Giuseppe da Rionessa in quanto sono stati cioè l'elemento di datazione e la loro canonizzazione per cui si suppone che le sagome siano state realizzate in seguito alla canonizzazione dei suddetti soggetti quindi si parla di metà 700 tuttavia l'analisi dei caratteri stilistici di queste sagome oltre che il fatto che sono realizzate con un supporto legno differente e presentano anche dimensioni e spessore leggermente differente questo fa pensare che la loro realizzazione è leggermente successiva rispetto alle altre anche se sono state realizzate per essere scoste tutte insieme delle sei sagome è stato possibile effettuare indagini che hanno consentito di cogliere tratti comuni e anche differenze per quanto riguarda il supporto le sagome hanno più o meno un'altezza simile si parla di 82 e 83 centimetri e sono realizzate su un'unica tavola ad eccezione del San Francesco e del San Antonio che presentano degli elementi vigne inchiodati anche lo stessore simile si parla di 3 centimetri ad eccezione di San Giuseppe da Leonessa e San Felice da Cantalice che come dicevo hanno lo stessore leggermente minore e sono anche realizzati con un legno differente dalle indagini di questi due sagome è emerso il vino mentre tutte le altre sono realizzate in noce tra i dettagli riferibili a un supporto si possono osservare chiaramente nelle immagini di San Giovanni i segni di lavorazione questi sono da ricondurre al fatto che appunto le sagome venivano realizzate con una tecnica esecutiva accostimata ulteriori dettagli sono due fori che attraversano tutte le sagome ad eccezione del San Antonio che presentano invece i due fori questi fori sono da interpretare come probabili come probabili serie di elementi di ancoraggio oppure come serie di alloggiamento di oreole metalliche per quanto riguarda le strade preparatorie si può fare un discorso comune anche a tutte le altre sagome quindi come dicevo assenza di uno strato continuo o significativo di preparazione questo particolare era chiaro già visivamente osservando le lacune dello strato pittorico ma è stato conservato tramite osservazione con microscopio a contatto nella sagoma di San Fulici in occasione della tesi e tramite la preparazione di sezioni lucide a sinistra quella del San Giuseppe dell'Olessa a destra quella della Maddalena dove si può osservare un sottilissimo strato continuo e quindi una preparazione significativa gli strati pittorici sono realizzati mediante un legante ad olio e pigmenti che sono stesi mediante una pennellata più fluida nei colori scuri e più corposa nelle lumeggiature come si osserva nei dettagli della Maddalena a sinistra e del San Giovanni a destra la tavolozza pittorica è costituita da poche cromie il grono e l'arancio sono delle terre il verbo è base di rame il bianco è base di piacca il nero è un nero frumo il rosso è base di ginaglio il blu è un indago quindi questi sono i risultati delle indagini tramite la fluorescenza ultravioletta con un altro tipo particolare di indagio è stato possibile osservare uno strato di un palco su tutta la superficie del fronte si tratta di una resina naturale con la superficie di un palco 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 per quanto riguarda lo stato di conservazione su tutte le sagome sono state ritrovate simili fenomenologie di degrado in maniera più o meno accettuata in particolare la scarsa qualità dell'ambiente di conservazione si dice dalle macchie di umilità riscontrabili su tutte le basi delle sagome in alto un dettaglio della base del San Giovanni in basso quello della Maddalena è dalle fissurazioni che si propagano le cere fissurazioni che si propagano dalla base solo nel San Giuseppe da Leonessa queste fissurazioni hanno comportato una costicua perdita di supporto su tutte poi è stato riscontrato un attacco da parte di insetti coleotteri un attacco però più in alto e in particolare la sua entità era maggiore nella sagoma del San Felice in quella di San Giovanni che potete osservare nelle immagini l'attacco infatti ha causato delle mancanze sia nella mano che è l'unica interamente scontornata sia nella base ma anche in altre parti della sagoma e si possono vedere i caratteristici fuori di storfallamento e le gallerie nella Maddalena invece l'attacco era di nevecchia solo piccoli fuori sono stati riscontrati e solo una piccola mancanza ricollegare probabilmente alla vicina fessurazione le strade di calice protettivi invece erano coperti da depositi superficiali di natura coerente e incoerente come polveri dellezioni di insetti solo sul fronte è stato possibile osservare in corrispondenza degli scuri la cretatura da ritiro quindi quelle piccole fessurazioni che vedete nell'immagine su tutte poi sono state riscontrate delle lacune e abrasioni come potete vedere nel dettaglio del San Giovanni sulla destra e in questo dettaglio invece della Maddalena dove sono ben evidenti i difetti di adesione degli istanti pittorici che hanno poi comportato l'insorgere di lacune sul viso sul fazzoletto su parti della destra e sulla base su tutte poi era possibile vedere l'ingegnimento degli strani protettivi l'intervento di restauro è stato pianificato nel piano rispetto dell'opera e nel rispetto dei principi del restauro avendo osservato modernità nelle tecniche esecutive e nello stato di conservazione l'intervento si può ritienere valido per tutto il corpus sebbene con le opportune modifiche date dalla specificità delle sigole opere una delle prime operazioni che ha ricordato l'intero corpus è stata la pulitura meccanica effettuata con PNLS con una setola morbida con gomme di tipo wishop e con la stira golbere a fine di rimuovere i depositi superficiali di natura coerente e incoerente la scelta del sistema più idoneo per continuare la pulitura è stata effettuata sulla base dei risultati delle indagini e dei test volti a capire come rimuovere lo strato e le sostanze sovrammesse con gli strati di vernice e le sostanze sovrammesse di sopra degli strati pittorici in questo caso abbiamo effettuato un intervento differenziato sul fronte e sul retro sul fronte dovendo agire sulla vernice alterata è stata effettuata una pulitura con un sorvezzo organico genificato un sorvezzo organico genificato nelle immagini potete osservare il prima durante l'applicazione del gel dopo l'applicazione è l'osservazione con la fluorescenza ultravioletta che ha permesso di verificare il grado di assottigliamento della superficie e l'omogeneità del grado di assottigliamento sul retro e sul bord invece dovendo agire solo sullo sporco di deposito è stata effettuata una pulitura a contenzio attivo in soluzione acquosa su tutta la superficie è poi effettuata la rifinitura a bisturi la rifinitura localizzata ovviamente a bisturi mentre le gore quindi le macchie dovute all'umidità su queste è stata utilizzata della carta giapponese con acqua idealizzata il tutto ha permesso di migliorare moltovolmente la leggibilità dell'opera come potete osservare nelle immagini in alto della Maddalena e in basso del San Giovanni avendo riscontrato appunto l'attacco da parte di insetti sebbene non in alto si è deciso di effettuare una disinfestazione mediante un biocida a base di perpetrina sia in ovulo che a pennello le stesse aree essendo particolarmente di poese sono state interessate anche da un consolidamento mediante una resina per questo consolidamento quindi questa resina ha avuto anche la funzione di rappresentare un strato isolante per evitare problemi in fase di verniciatura problemi di assorbimento differenziato in fase di verniciatura provocati dall'assenza dello strato di preparazione la stessa resina è stata utilizzata sfruttando la sua termoglasticità e adoperando calore e pressione per ristabilire l'adesione degli strati pittorici sulla magdalena invece dal momento che necessitava un adesione maggiore è stato utilizzato un altro tipo di adesivo di fronte alla presenza di lacune mancanze abrasioni è stato effettuato un intervento di reintegrazione elastica e pittorica concluso da una verniciatura finale in particolare di fronte alla presenza di mancanze del supporto come potete osservare nell'immagine del San Giovanni comprendenti queste mancanze comprendevano anche fuori di soffondamenti le gallerie si è deciso di effettuare una stoccatura tramite uno stocco bicomponente il tutto è stato poi equilibrato cromaticamente mediante colori ad acquarello e vernice sulle mancanze di maggiore entità sulle lacune di maggiore entità è stata effettuata l'area reintegrazione è stata effettuata mediante la tecnica del puntilato qui invece vedete dei dettagli delle basi delle due sagome in alto di San Giovanni in basso della maddalena sulle lacune con legno a pissa non è stata effettuata la reintegrazione ma sono state solamente abbassate le macchie e le gore mediante colori da curello e vernice mentre le mancanze precedentemente stupate sono state portate al tono del legno ove necessario poi come nel caso della maddalena illustrata sono state effettuate delle strumenture con testo e folla e qui libravi poi cromaticamente mediante colore d'acquarello e vernice come potete osservare nelle immagini e qui con l'immagine del San Giovanni che illustra appunto il prima e il durante e il dopo quindi il restauro da questo stato di concentrazione iniziale ha prodotto questo risultato finale quindi questo è il risultato nel caso del San Giovanni qui vedete la maddalena prima e dopo l'intervento qui il San Felice da Cantanice prima e dopo l'intervento prima di conflutere un piccolo contributo sulla ricontestualizzazione quindi ogni obra d'arte nasce in un particolare contesto storico culturale geografico però spesso viene decontestualizzata quindi viene spostata dal suo contesto originario ricontestualizzare significa ricreare i legami originali dell'opera in questo caso è stato preso in considerazione il coro della chiesa di Santa Maria degli Angeli qui vedete una foto prima della ricollogazione è stato preso in considerazione il coro sulla base con affermazioni di padre Costantino da Cerami che nella sua monografia del nuovo momento dei Cappuccini afferma che il parapetto del coro era unato con statuette e pitture nelle finte colonnette di esso era sovrastato da un grande procefissio che secondo la tradizione si trovava nel primo momento dei Cappuccini e aveva parlato con il santo religioso capitale da Nicosia sulla base di queste considerazioni sono state ricollocate le sagome momentaneamente in attesa di autorizzazioni da parte della subintendenza sono state ricollocate di sopra della bala ostra le dimensioni erano sufficienti per appunto permetterne la ricollopuzione tramite la realizzazione di appositi supporti che vedete in basso nelle due immagini a destra che sono stati realizzati da Sebastiano Saladino che ringrazio questi supporti sono stati realizzati in legno di abete dalla forma rettangolare quello sul retro e sagomato invece quello sul fronte i due listelli sono stati distanziati in modo da permettere l'alloggiamento delle sagome senza bloccare i movimenti delle stesse permettendo anche il riciclo di aria e umidità grazie all'interposizione di listelli al di sotto del legno di abete al di sotto delle sagome stesse inoltre sono stati sagomati in modo da incolrire la pellicola pittorica che è già nelle basi per gran parte ragamosa quindi questa soluzione permette di osservare le sagome entrambi i lati delle sagome sebbene da punti di vista diversi infatti dal basso si possono osservare il retro delle sagome quindi il carattere distintivo delle stesse mentre dal coro è possibile osservare in fronte in questo modo è stato preservato anche l'aspetto prettamente liturgico delle sagome oltre che in questo modo è possibile anche prevenire ulti e danni accidentali altri aspetti positivi sono il sistema di videosorveglianza posto all'ingresso del coro e la luce sformata dalle tende che quindi non permette quindi la luce non entra e non compisci direttamente le opere quindi questa robazione è sicuramente favorevole dal punto di vista estetico conservativo e anche consente di restituire le opere alla comunità in attesa del completamento appunto del restauro vi potete vedere le tre sagome che mancano e il crocifisso di cui parlavo è stato comunque deciso di rendere fruibile l'intero corpo se dirsi quello alla comunità ringraziandovi per l'attenzione vi invito poi ad ammirare le sagome anche dal coro che per l'occasione sarà fruibile già con l'applauso avete compensato il malazio della fatica dello studio della ricerca che ha dovuto fare quindi marionizziamo nel cuore speriamo che come dicevo prima con la generosità dei nicosiani riusciamo a restaurare anche le altre due che non sono restaurati e il crocifisso che ha bisogno di non dire restare padre salvatore desiderava dire un pensiero per me è un motivo di particolare gioia che in questo giorno in cui dopo 18 anni nel grande disastro a New York l'umanità è stata sconvolta dalla moltezza e dalla violenza oggi siamo stati accarezzati dalla bellezza diceva il filosofo bulgaro che metano Polorof la bellezza salverà il mondo e lui diceva questo riferendosi all'assoluto cosa vuol dire a Dio ricercato attraverso la via dell'arte che è un salvo il salvo 44 che dice tu sei il più bello tra i figli dell'uomo sulla tua borde diffusa la grazia questo salvo verrà ricompreso nel Nuovo Testamento come l'espressione profetica della bellezza di Cristo e non a caso San Francesco ha scritto un himno tu sei bellezza ma la bellezza non è soltanto la contemplare nelle opere pittoriche artistiche è la contemplare in coloro che appartengono a Cristo Gesù che è il più bello tra i figli dell'uomo dice e accogli voi accogli me ma dobbiamo in qualche modo tendere ad essere la sparenza di quella bellezza al diare le ferite che non si porta non possiamo nascondere ma una cosa sulle ferite Gesù ha le piante ma è la bellezza le mani altro invece è la torpezza di chi non fa trasparire lui nella coperta un atto del pensiero sicuramente ricordate come nell'antico di Stamento è detto non ti farai immagini alcuna e di questo anche i credenti non cattolici e non autodossi ci accusano di non semare la scrittura ma come hai fatto le immagini hai fatto le immagini allora ma cosa è l'immagine idolatica hanno occhi non vedono hanno lingue non parlo hanno mani non so beh altro altro invece è il valore di segno il segno l'altra parte Dio stesso e a Mosè e attraverso Mosè il popolo di Israele aveva detto non ti farai immagini alcuna ha dato la possibilità di fare un serpente di lame e metterlo su un'asca quando quel popolo di Israele si interlò a Massa in Libra e fu morso dai serpenti ma poi guardando quel simbolo pur morsi erano salvati e ci studisce e Dio dice hai immagini alcuna lì autorizza suggerisce di fare quello e anche quando c'è la costruzione perfettamente descritta dell'arca dell'Alleanza al cui in te lo venivano a più scudire le pavole dei dieci comandamenti accanto all'arca dell'Alleanza sul coperchio e profiziatorio c'erano due erudini e allora anche che c'è un permesso di immagine ma finalmente non vogliamo attribuire a Dio il permesso di fare il bene ma è un dubbio che faccio a tutti e a me innanzitutto di comprendere bene queste cose per non essere imparati davanti a quelli che ce li usano di essere i dolargi e sono convinto che voi non lo siano tu sei tu sei belle dice San Francesco grazie grazie a tutti grazie a tutti vedo padre Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.